Una match che vede in campo due squadre abituate del Duca Grama e Fratta Terme a stazionare nelle zone alte della classifica, soprattutto gli ospiti che hanno conteso a lungo la leadership del torneo anche alla Sampierana. Si inizia un po' in ritardo per alcuni problemi alla rete che verrà sollecitata tantissimo nel corso della prima frazione di gioco, quella dalla parte del portiere del Duca Grama che pure parte molto meglio, siamo al secondo minuto di gioco, in area di rigore c'è questo contatto che porta al rigore il fallo commesso da parte di Monteleone su strada, calcio di rigore per il del Duca Grama, dal dischetto si presenta Cozzino, la sua esecuzione ma capisce tutto e para il portiere Lombardi. Per la Fratta il suo intervento è facilitato anche dal fatto che non era molto angolata l'esecuzione, allora inizia un po' lo show della Fratta Terme, crossa dalla sinistra, colpo di testa vincente sull'assist di Candoli, segna il primo gol del suo pomeriggio Gallo con un colpo di testa sul primo pallo, nulla da fare assolutamente per Cottignoli. Ancora Fratta in attacco, ancora la possibilità e il colpo di testa al ventesimo minuto per quanto riguarda il raddoppio, sempre Gallo a materializzare il gol, questa volta l'assist è di Andreoli, siamo sul 2-0, match che sembra totalmente indirizzato ma che diventerà ancora più indirizzato, 4 minuti più tardi con questa azione di prepotenza da parte proprio di Gallo che così firma il suo centro e poi il del Duca Grama che perde anche un giocatore l'intervento a piedi a martello per quanto riguarda il giocatore in maglia numero 9, si trattava di Curella ai danni di Branchetti, espulso direttamente il giocatore del Duca Grama che resta così in 10 uomini, ne approfitta la Fratta per chiudere la prima frazione di gioco con il tocco vincente di Ravaioli, sotto misura sull'assist ancora da parte di Candoli dopo l'azione di Monte Leone, siamo sullo 0-4 ma nella ripresa non cambia assolutamente nulla perché continua la mattanza effettuata dalla Fratta il piazzato vincente di Gallo in questo caso che vale il 5-0 degli ospiti che nel finale di match troveranno altre due soddisfazioni sempre con lo stesso giocatore Bucai, in buca d'angolo questo piazzato per il gol del 6-0 al 29esimo minuto per un match che sostanzialmente era già terminato, le due squadre che avevano poche accelerazioni, due vincenti però come detto per la Fratta, due vincenti per Bucai, assist di Ravaioli, tocco per il 7-0 che sorprende il portiere del Duca Cotignoli ed è il punto che chiude anche le marcature al novantesimo minuto per un match che come vediamo prosegue ancora con pochi strappi, triplice fischio del direttore di gara, vittoria come detto per la Fratta Terme sul del Duca Grana, sul sonoro punteccio di 7-0.